Quello che ho qui accanto a me si chiama Kobo Aura H2O. È impermeabile, ha uno schermo touchscreen ed è pensato per non affaticare gli occhi. Ma a cosa serve? Ve lo racconto tra pochissimo qui su Tech Princess. Se siete dei lettori voraci probabilmente sarete tra coloro che amano il profumo dei libri nuovi, la consistenza della carta e persino i tradizionali segnalibri. Eppure negli ultimi tempi la carta stampata ha fatto spazio agli ebook più leggeri, più ecologici e molto più pratici. Ecco, Kobo Aura H2O serve proprio per leggere questi famigerati libri elettronici. Per facilitarvi l'utilizzo in qualsiasi momento, Kobo ha deciso di mettere a vostra disposizione un display touchscreen da 6,8 pollici, quindi anche abbastanza ampio, la tecnologia e-ink HD che simula in tutto e per tutto l'inchiostro sulla carta e la possibilità di regolare l'intensità e il calore della luce frontale, che varia da luce di candela a luce solare. Ma non finisce qui. A breve infatti ci catapulteremo sulle spiagge, un ambiente notoriamente pericoloso sia per i libri cartacei che per la tecnologia. Sdrai o ombrellone però non spaventano Kobo Aura H2O. Questo piccolo e leggero ebook reader infatti resiste sia alla sabbia che all'acqua. Potrete quindi immergerlo fino a un massimo di 60 minuti ad una profondità di 2 metri. Volendo però potete comodamente usarlo in vasca mentre vi godete un rilassante bagno caldo in compagnia del vostro scrittore preferito. Questo ebook reader è inoltre in grado di soddisfare i lettori più esigenti grazie ad altre due caratteristiche. La prima è l'autonomia. Kobo Aura H2O può infatti sopportare fino a 2 mesi di utilizzo prima di chiedervi di essere ricaricato tramite il comodo cavo USB, il che significa che non dovrete preoccuparvi di attaccarlo alla corrente, funzionalità fondamentale per chi è sempre in viaggio. Inoltre questo ebook reader vanta una memoria interna di 4GB, cosa che gli permette di contenere fino a 3000 ebook. Sì, avete capito bene. Potete svaliggiare il Kobo Store ed essere certi di avere tutti i vostri libri a portata di mano. Il negozio è ovviamente virtuale ed è accessibile direttamente dall'ebook reader. Questo vi permetterà di comprare i vostri libri preferiti senza dover andare fisicamente in libreria, in qualsiasi posto voi vi troviate. Anche per oggi è tutto, come sempre vi invito a visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!